La droga era custodita nella casa parrocchiale del villaggio La Marmora, ignaro di tutto il parroco, scioccato. A capo della modesta rete di spaccio sarebbe stato Pape Yellow, 27 anni originario del Gambia, a Biella, ospite nei locali della parrocchia in Via d'Orzano. Era lui a fungere da corriere, si riforniva a Torino di hashish e cocaina che poi rivendeva in città. Con lui, Sambiu Javara, 24 anni, residente a Vallemosso, che per questo tutti i pomeriggi scendeva in autobus fino al capoluogo. Ed ancora Davda Sao, anche lui, 24 anni, accolto dal parroco del villaggio Don Ezio Saviolo. A denunciare i loro traffici sarebbe stato un soggetto agli arresti domiciliari che non riusciva più a pagare la fornitura quotidiana di cocaina. Ed era stato per questo pesantemente minacciato. A dicembre il sostituto procuratore Sara Cacciaguerra aveva chiesto misure cautelari per tutte e tre. Accolte dal GIP ed eseguite dai poliziotti della squadra mobile. Avrebbero trovato anche nelle stanze che i due gambiani avevano ricevuto dalla parrocchia dello stupefacente. Una ventina di grammi di cocaina e uno di hashish. In credolo, quindi, Don Saviolo, che ospita nella casa parrocchiale una decina di persone. Non aveva mai sospettato che i due richiedenti asilo, uno dei quali con un lavoro stabile, fossero coinvolti nello spaccio. Infuriato, avrebbe espresso la volontà di cacciarli, cosa che almeno in un caso sarà impossibile. Per uno dei due, infatti, sono stati disposti gli arresti domiciliari, in quello che risulta essere il suo unico indirizzo, e cioè via d'Orzano. Si configurerebbero inoltre anche altri reati. È saltato fuori un video dal telefonino di uno dei tre dove, dopo aver ceduto della cocaina, i richiedenti asilo pretendevano prestazioni sessuali a ragazze che sembrerebbero giovanissime. Ma questo è ancora da purare. Grazie a tutti.